Rimane un obiettivo ma gli sviluppi vanno tutti definiti. Era prevista una verifica sul ciclo delle acque reflui direttamente in presenza del management di Eni, l'amministrazione comunale, gli esponenti istituzionali del territorio e i riferimenti della multinazionale hanno ripreso a sondare le possibilità tecniche per far sì che le acque reflui affinate possano pervenire alle aree rurali del territorio. Senza dighe efficienti il ciclo delle acque reflui è una delle poche prospettive che si apre per migliaia di operatori del settore. Al tavolo non sono mancati il sindaco Di Stefano, gli assessori Arancio e Franzone, il consigliere comunale Demfava, il componente, la struttura commissaria del partito di Dio, il presidente Ati Conti e il senatore Pietro Refici hanno a loro volta contribuito al confronto. Da vagliare con molta attenzione sono i quantitativi da destinare alle vasche di accumulo per le campagne, le autorizzazioni e la condotta da utilizzare che attualmente è coperta solo per fini industriali. L'amministrazione comunale e le istituzioni politiche vorrebbero un pieno coinvolgimento di Eni nel progetto. La multinazionale ha comunque esigenze legate al proprio ciclo produttivo, riferimento primario delle acque che pervengono dalla depurazione. Il progetto, almeno stando alla parte politica e amministrativa che lo sostiene, dovrebbe assicurare quantitativi consistenti con priorità da assegnare alle esigenze agricole per un comparto in flessione preoccupante proprio a causa della scarsità idrica e di dighe che non riescono a garantire le portate minime. Sono tutti aspetti che verranno ancora di più valutati nelle prossime settimane. Quantitativi autorizzazioni sono tra i nodi da sciogliere oltre al rapporto ambientale che dovrà essere redatto per la fase di valutazione.